Siamo nell'auditorium impastato della mezzaterma e siamo venuti qui stasera perché c'è la costituzione del primo comitato provinciale che si opporrà all'impianto di riforme costituzionale varato dal Parlamento ed esattamente dalla maggioranza di Matteo Renzi. Dunque stasera si entrerà nel merito della riforma istituzionale e in questo comitato si stabiliranno i punti. E' un'agenda su cui si articolerà l'opposizione a partire dal basso all'impianto di riforme sulla quale il Governo sta ormai completando il suo iter parlamentare. Andiamo a vedere quali sono i punti che sono contestati, quale forza si sono ritrovate dentro questo tavolo e sono qui arrivati alla mezzia per costituire questo primo comitato che poi sicuramente darà vita ad una rete di comitati in tutta la provincia per preparare tutte le iniziative compreso l'eventuale battaglia sul referendum confernatico che ci saranno nei prossimi mesi. E' un'agenda sui per costituire un comitato locale affiancandosi a tanti altri comitati che stanno forgendo il resto del nostro Paese, anche a Cosenza, è stato costituito già la settimana scorsa, il comitato di sostegno al ricorso che è stato presentato avverso alla legge elettorale nuova, quelle che va sotto il nome di Tati Cum e ovviamente predisporsi per il referendum sulle modifiche costituzionali che certamente si dovrà tenere perché è obbligatorio il referendum al momento in cui in Parlamento non ci sono i due terzi che votano la modifica della carta costituzionale. Stasera parte questo comitato sostanzialmente che attraverso una serie di strumenti così come è stato presentato si prefigge l'obiettivo di bloccare sia la modifica istituzionale sia l'impianto della legge elettorale. La CGL qui a Catanzaro decide di partecipare, come mai? Assolutamente, intanto è un nostro modo di essere quello di ascoltare, di partecipare rispetto a delle questioni che attengono alla democrazia e alla tenuta democratica di questo Paese. Partecipare per noi significa intanto ascoltare e poi decidere se avviare il percorso insieme a chi lo propone. Noi già siamo intenzionati a dire il vero, a dire di sì, ad aiutare, a dare una mano, a provare ad informare i cittadini su quello che è l'impianto, che le leggi che questo Governo ha fatto sul piano costituzionale di riforma e di riordine dello Stato, come hanno modificato e come modificheranno la vita dei cittadini e della democrazia. Noi pensiamo in peggio. Pensiamo che tutto l'impianto delle leggi, alcune sono già in piedi, sono lampanti, sono leggi superficiali e hanno poca attinenza con quelli che sono i problemi reali della gente. Penso a quella sulle province, al riordino, a quello che è successo, la cosiddetta legge del Rio, che ha lasciato un voto normativo incredibile, che ci crea dei problemi come cittadini e ci crea problemi anche come lavoratori. Questa qui sul Senato è un'altra di quelle opere che metteranno in serio rischio la detenuta democratica di questo Paese, noi riteniamo, perché è un'operazione che prova a mettere il potere esecutivo davanti alla rappresentanza. Questo Governo già ci prova continuamente, ci prova con la rappresentanza sociale, con i sindacati, prova ad annullare quello che è il ruolo della rappresentanza sociale, dell'ascolto delle istanze che vengono dal basso, dal popolo che dovrebbe essere quello che, appunto, citare l'articolo 1, chi detiene il vero potere democratico, appunto, in questo Paese. Questa cosa si sta forzando, questa cosa si sta modificando e noi pensiamo si stia modificando in peggio e abbiamo il compito come organizzazione sindacale di informare i lavoratori, i cittadini di quello che sta avvenendo, poi saranno loro a decidere nel referendum se abrogare o meno quello che il Governo ha fatto. Diciamo, uno dei luoghi comuni, o a secondi punti di vista, che si dice, insomma, i problemi che si tende a far passare, dice, ci sono problemi molto più importanti, la disoccupazione, la crisi economica, il crollo del sistema produttivo, bisogna incidere su questo, fare una battaglia su una riforma che in qualche modo poi va a ridurre i parlamentari, le scelte. Insomma, l'idea che passa tra, o che si tenta di far passare, tra i cittadini è di questa natura. Ecco, lei che è rappresentante del più grande sindacato, diciamo, italiano, quindi rappresenta la maggioranza delle forze sindacalizzate, ecco, di lavoro. Cosa pensa rispetto a questi luoghi comuni che avanzano? Beh, intanto penso che i luoghi comuni si utilizzano per nascondere poi la vera natura delle riforme proposte. Intanto è verissimo, ci occupiamo di lavoro, di emergenza sociale, di sanità, di problemi della povertà, di problemi del lavoro che manca tutti i giorni, delle crisi aziendali. Il problema è che neanche su quello il Governo risponde, quindi sarebbe bello, insomma, dire, sì, almeno occupati di quelle, perché hai ragione tu, insomma, ci occupiamo principalmente dei problemi che noi, comunque, come l'organizzazione sindacale, continuiamo a porre a questo Governo. Il rischio è quello, il rischio è di dire una battaglia della modernità, perché alla fine non ci sarà più il Senato e poi non è neanche vero. È una battaglia della modernità perché si risparmia, perché si diminuiscono i parlamentari. È una battaglia di modernità perché c'è sempre stato in questo Paese un problema della governabilità e che quindi viene, naturalmente, in questo modo si sostiene, viene superato con un livello di governabilità più alto. Noi crediamo che non sia così perché è tutto, insomma, un specchietto per le allodele ed è, comunque si mantiene un sistema che premia le oligarchie, premia le segreterie dei partiti, non premia i cittadini, non premia la democrazia, e non premia la rappresentanza vera delle stanze che i cittadini vogliono esprimere. C'è un grave distacco tra quello che è il dibattito nel Paese e quello che è il Paese reale. E queste leggi rischiano di acquire ancora di più quel distacco e far arrivare questo Paese ad una sorta di democrazia che già ha qualche problema, ma che sarebbe molto malata e avremmo molto difficoltà ai cittadini a mantenere un livello di libertà nelle scelte, nelle opinioni che ognuno di noi compie ogni giorno. Io ho in mente questa immagine nel rappresentare qual è lo spirito con la quale ci approggiamo a far parte del Comitato, a mettere in piedi le iniziative necessarie, mantenendo naturalmente quelli che sono i nostri impegni sul lavoro e sulla rappresentanza dei lavoratori. Ho l'immagine dei parigini di questi giorni che nonostante una situazione di coprifuoco e di misure di sicurezza ristrette, a un certo punto non ce l'hanno fatto più a stare a casa e a guardare alla televisione quello che stava succedendo nella loro città, ma hanno detto che non scendiamo in piazza perché noi siamo i cittadini di questo Paese e noi vogliamo essere liberi anche in questo. Io vorrei che questo nostro Paese, l'Italia, da questo punto di vista, su questo referendum e su queste battaglie prendesse coscienza e assumesse quel livello di libertà. Questa sera una serie di forze politiche, soprattutto di sinistra, ma anche alcune associazioni vi ritrovate qui per costituire un Comitato che sostanzialmente in più articolazioni si propone l'obiettivo di far saltare il banco, quello che è relativo alla legge elettorale, ma soprattutto all'impianto complessivo delle riforme istituzionali. Non avete timore di una battaglia di testimonianza? No, intanto è una battaglia democratica nella quale crediamo profondamente perché sia l'appoggio ai ricorsi presentati in corte d'appello contro alcune parti della legge elettorale, segnatamente alla questione dei capilista bloccati e del premio di maggioranza, sia invece la costituzione di un comitato che sarà quello del no al referendum confermativo per la riforma del Senato. riteniamo che siano dei percorsi importantissimi perché in Italia si sta instaurando la democrazia dell'investitura, così come l'hanno chiamato alcuni giuristi e noi in accordo con la nostra Costituzione crediamo fermamente nella democrazia della rappresentanza. Cioè se nel Parlamento non vi è la possibilità dell'espressione di tutte le opinioni, di tutte le classi sociali, delle istanze della maggior parte della popolazione, noi pensiamo che la nostra non sarà più una vera democrazia. E anche i diritti sociali, il diritto al lavoro, il diritto alla salute, i diritti di libertà che tanto fanno fatica ad essere affermati nel nostro Paese rischiano davvero di non essere più difesi da nessuno. Noi non crediamo alla democrazia di un uomo solo, di un solo partito, di un governo. Pensiamo che il governo ha un ruolo, il Parlamento ne abbia un altro e il ruolo delle opposizioni, delle minoranze deve essere sempre salvaguardato, cosa che non fanno le riforme che sono state approvate e quelle in itinere. Perché invece rischia di governare una minoranza su una maggioranza di cittadini o che non andrà a votare o che non verrà rappresentato in Parlamento. Il rischio o come fare per sfuggire al rischio del luogo comune oppure della realtà dei fatti, a secondo come la si guardi, di quella che il vulgus invoca. Sono più importanti i problemi legati all'occupazione, all'economia, alla crisi, al vivere quotidiano, piuttosto che questi dettagli che in fondo riguardano la casta. No, non riguardano la casta, riguarda ciascuno di noi. Perché se nelle assemblee elettive non vengono rappresentate le istanze popolari, ripeto, della maggior parte dei cittadini, come si possono difendere i diritti sociali, quindi il diritto al lavoro, come si può parlare dei problemi quotidiani delle persone. Ma immaginiamo anche, nemmeno anche questa situazione attuale, noi dobbiamo pensare a delle regole che valgano per molti anni, dove si possono avvicendare anche orientamenti partiti di orientamenti diversi. E se vince con un premio di maggioranza, appunto così come viene descritto dalla legge elettorale, un partito autoritario, che non è d'accordo con le conquiste che gli italiani hanno ottenuto attraverso le lotte, attraverso battaglie parlamentari di tanti anni, attraverso anche i dettati costituzionali, e beh, questo partito, questo futuro premier lo potrà fare tranquillamente. Perché se avrà un Parlamento di nominati, nominati da lui, se vince, se è il partito che vince e ha un premio di maggioranza che gli garantisce il maggior numero di seggi, 320 o 40 seggi, ora non ricordo bene, su circa 600, beh, a questo punto insomma, non ha più le persone, se oggi non vanno a votare in grandi numeri, credo che andranno sempre di meno a votare. Quindi davvero la politica sarà a fare sempre più di pochi e nessuno di noi, singoli cittadini, potremmo contare. Quindi il problema delle regole è un problema che ci riguarda la democrazia e le regole non sono delle cose astratte. Attraverso le regole si costruiscono anche i percorsi per i cambiamenti e i cambiamenti li determina, appunto, se vengono determinati dalla maggior parte dei cittadini, forse possono essere anche cambiamenti che si adeguano alla maggioranza dei cittadini. Se invece vengono costruiti a uso e consumo di una minoranza che governa su una maggioranza, io credo che questo non può essere garanzia di democrazia. Io notavo prima nel suo intervento, lei è una donna, diciamo, che viene da una lunga tradizione a sinistra di battaglie, insomma, anche radicali alcune volte. Però notavo nell'intervento che ha fatto al tavolo una sorta di amarezza. C'è qualche autocritica da fare se oggi, insomma, un esponente della sinistra come lei si ritrova a fare una battaglia di questo tipo che mette al centro la democrazia e al governo c'è l'erede di un partito che è stato un partito comunista? Ma diciamo che direttamente alla mia parte politica forse ha poco da rimproverarsi, perché voglio ricordare che già in tempi anche remoti rispetto agli attuali, nel 1993, quando molti a sinistra si innamorarono del sistema maggioritario e sostennero il referendum per l'introduzione di questo sistema nel nostro ordinamento elettorale, insomma, la parte che io rappresentavo invece difendeva in maniera pervicace il sistema proporzionale, al quale io credo ancora fermamente, perché una testa e un voto sono la maggiore garanzia. Io che sono stato eletto in Consiglio regionale con l'1,5%, credo di avere rappresentato anche degnamente non solo la parte di cittadini che mi ha votato, ma anche un'idea di mondo e l'ho fatto con onestà intellettuale e credo anche di avere contribuito alla democrazia della mia regione, alla costruzione di leggi, alla modifica delle stesse. Oggi purtroppo tutto questo non avviene, per esempio in Calabria, con la complicità di tutti gli schieramenti, dello schieramento politico sia di centrodestra che di centrosinistra, si è votata una delle peggiori leggi elettorali, quindi non parliamo soltanto di quella nazionale, una legge che prevede uno sbarramento dell'8% per chi non si coalizza e io credo che questo sia veramente lesivo del diritto delle minoranze, quindi non di chi vuole fare opposizione a stare in un'assemblea elettiva. E chi ha fastidio per chi non la pensa come la maggioranza, credo che prenda una brutta strada. Quindi in questo senso io dico una parte dello schieramento di sinistra, si è innamorato negli anni passati anche di proposte che oggi trovano la logica conclusione anche nelle proposte di Renzi. Spero che ci sia un ravvedimento in molti e nel coordinamento che sostiene il ricorso per quanto riguarda alcuni punti della legge elettorale e anche la questione del referendum confermativo, ci sono molti esponenti anche di quel mondo che forse aveva anche flertato con un cambiamento di tipo diverso. Per cui io penso che la strada è aperta e mi auguro invece che la maggior parte dei cittadini capisca questa battaglia e che riesca anche attraverso uno strumento come la difesa della democrazia parlamentare a ricostruire un'altra idea di politica perché la politica è molto importante se le regole sono regole che includono le persone e non che escludono. Quindi questo è il nostro obiettivo. Onorevole Fittante, la prima domanda è preliminare. Lei, un ex parlamentare del Partito Comunista, insomma un partito, anche lei ha appartenuto al gruppo moralitario, insomma l'equilibrio era una cosa fondamentale e invece stasera lei lancia il comitato nella provincia di Catanzaro, si può dire perché è la prima esperienza perché rispetto alle modifiche introdotte da una maggioranza, insomma una parte anche erede di quel partito di cui lei è stato parlamentare, una modifica costituzionale è il vario di una legge elettorale che lei insomma in maniera molto articolata questa sera ha diciamo spiegato, insomma è cambiato veramente il mondo. Ah beh, per intanto sia la legge elettorale sia le modifiche costituzionali sono state introdotte da una maggioranza estremamente anomala. La prima fondamentale importante anomalia è dovuta al fatto che questo Parlamento è un Parlamento di nominati in base ad una legge che la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale. Allora, una volta emessa la sentenza della Corte Costituzionale bisognava fare una sola cosa, andare a nuove elezioni con una legge elettorale depurata ma dagli elementi che la Corte ha dichiarato chiaramente essere in contrasto con le norme della Carta. Tra queste norme c'è il voto bloccato per il capialista nel caso della nuova legge oppure la lista bloccata come era nel Porcellum, primo fatto. Secondo fatto, c'è un'anomalia in quanto le regole si scrivono insieme perché non sono regole che debbono valere per questa maggioranza e non per la prossima. Dovrebbero valere per un lasso di tempo molto lungo. La Costituzione è stata fatta nel 1948 e nei suoi principi fondamentali non è cambiata mai perché sono principi e valori tuttora estremamente validi. Ma anche nella seconda parte, dove si parla dell'articolazione dello Stato e via dicendo, le modifiche che sono state fatte sono state poche, importanti, ma votate da larghissime maggioranze. Il che significa che la strada scelta in questa occasione è stata quella di giocare sul mercatino dei voti, per cui ci sono deputati che hanno cambiato finora tre o quattro giacche, anche qualcuno in più. Al Senato è avvenuto quello che è avvenuto e quindi sono il risultato di anomalie che la vecchia politica tanto bistrattata non esercitava. La mia esperienza, che ormai è lunga perché ho cominciato con i pantaloni corti a fare politica, sostanzialmente la bistrattata prima Repubblica non ha mai visto il mercatino che c'è oggi, il cambiamento di schieramento, il passaggio da una lista a un'altra, da un gruppo parlamentare a un'altra sulla base di che cosa? Sulla base di un'addizione ad un'idea, ad un percorso, ad un disegno, ad una strategia per il nostro Paese oppure sulla base dell'opportunità, del momento massimo dell'opportunità per domani mattina. Lei stasera è entrato anche nel merito, anche come spunto di riflessione, di alcuni passaggi sia per quanto riguarda l'impianto costituzionale che è stato modificato e anche la legge elettorale. Adesso però ci sono degli appuntamenti, diciamo, in questo percorso di battaglia, di tentativo di arginare questa questione e sono sostanzialmente due. Uno è di carattere costituzionale, come lei ha spiegato, e un altro che è quello da giocarsi con il ricorso e poi c'è la questione del famoso referendum confermativo. C'è l'articolo, diciamo, i tre momenti. Allora, sulla legge elettorale c'erano due possibilità. O praticamente chiedere il referendum sulla legge in quanto tale, nel suo complesso, oppure l'altra strada, quella di un ricorso nel quale indicare quali sono le norme della legge elettorale in contrasto con i principi della Costituzione. Si è scelto questa seconda strada. Perché? Perché sulla base dell'esperienza del Porcellum ci si è resi conto che i tempi della decisione sarebbero andati ben oltre l'entrata in vigore della legge. La legge elettorale votata dalle Camere e che va sotto il nome di Talicum entra in vigore il primo luglio del 2016. Per cui se si dovessero sciogliere le Camere a giugno del 2016 si voterebbe dopo il primo di luglio con questa legge. Prima del primo luglio si voterebbe con la legge, come modificata dalla Corte, no? Con la sentenza numero uno. Allora, come fare? Se fai un referendum, i tempi sono lunghissimi. Se fai un ricorso come quello del Porcellum, perché al Porcellum è stato fatto un ricorso elettorale, il percorso quindi è lunghissimo fino alla pronuncia della Corte Costituzionale e non è detto che venga rinviata alla Corte. Si è scelta la strada di 20 ricorsi, no? Stuti uguali, depositati alle Corti d'Appello, che sono 20. In questi ricorsi sono stati indicati quali sono gli articoli della nuova legge elettorale in contrasto con le norme costituzionali. E si è chiesto quindi una pronuncia delle Corti. Qual è l'obiettivo che si persegue? L'obiettivo che si persegue è che se almeno una Corte dovesse concludere ci sono elementi di incostituzionalità, ma non li posso correggere io, li deve correggere la Corte Costituzionale, rinvia alla Corte Costituzionale, no? La pronuncia sulle norme che ritiene essere in contrasto con la Costituzione. Si tagliano completamente, tanto ma tanto, dei tempi necessari. E questa è una cosa, questa è una cosa, che non ha bisogno, diciamo così, di pronuncia popolare. L'altra invece è il referendum che è obbligatorio, perché siccome il Parlamento non ci sarà una maggioranza dei due terzi dei parlamentari, Camera e Senato, che voteranno la modifica della Costituzione, la legge prevede che si deve fare il referendum confermativo. In quel caso, no? I cittadini debbono sapere perché si fa quel referendum, su che cosa si fa, quali sono i contenuti di queste norme che vengono messi all'esame e al giudizio dell'elettorato italiano. E questo è l'altro percorso che evidentemente può essere fatto da comitati diffusamente nel Paese, ho reso l'idea, in modo tale che questi comitati abbiano come obbligo fondamentale, come dovere fondamentale, a quello di informare l'opinione pubblica, i cittadini, gli elettori, spiegare quali sono le norme, no? Che a giudizio nostro non vanno bene. Io ne ho citate alcune, ne ho citate alcune, se ne potrebbero citare tante altre, no? Questa contraddizione, ad esempio. Il Senato non è abolito, il Senato resta in vita, anzi qualcuno ha messo in evidenza questo dato. Si continuerà a chiamare Senato della Repubblica. Allora, domanda, il consigliere regionale che diventerà anche senatore calabrese, rappresenta solo la Calabria o rappresenta la Repubblica italiana, visto che è senatore del Senato della Repubblica italiana? Dice, è un fatto nominalistico, no? È un fatto di sostanza non nominalistico. Allora, quale contraddizione? Si dovrebbe, quando si vota per il consiglio regionale, avere una lista che praticamente viene, nelle quali ci sono i candidati al consiglio regionale, poi ci dovrebbe essere un listino che sono i candidati di ciascun partito da mandare nel numero stabilito al Senato e quindi diventerebbero consiglieri senatori. Consigliere trattino senatori. Allora, si dice, l'elettore vota per il consigliere che deve essere eletto al consiglio regionale e può, la stessa persona può essere votata, no? Con la preferenza, perché venga mandato al Senato. Poi il consiglio regionale, e qui sta il punto, che fa? Prende atto del risultato di questa consultazione con le preferenze, eccetera? Oppure può tranquillamente scegliere altri, a prescindere da quello che hanno deciso gli elettori? È un interrogativo legittimo che però presenta elementi di forte legittimità costituzionale. E ho fatto solo un esempio, ne potrei fare tanti altri. Allora, noi siamo contro questa modifica della Costituzione perché la nostra è una repubblica parlamentare, è una democrazia parlamentare. Così come è impostata la legge di modifica costituzionale, non si può affermare in maniera categorica che si passi ad una repubblica presidenzialista, ma a un cancellariato, come dire? Insomma, semi nascosto. Semi nascosto, semi occulto. Perché semi nascosto e perché cancellariato? C'è quella norma che io ritengo pericolosissima, secondo la quale, come avviene adesso con i decreti legge, il governo varia il decreto legge, lo manda alla Camera o la manda al Senato, Senato e Camera hanno un tempo dentro il quale approvarlo. Se non l'approvano decade, quindi si torna a zero. Con la norma inserita nella modifica della Costituzione, il governo vota un disegno di legge, quindi non entra in funzione subito come il decreto legge, però fissa contestualmente i tempi entro i quali questo disegno di legge deve essere votato, che si dice possono essere intorno a 70 giorni. Al settantesimo giorno, se il Parlamento non ha votato, non ha votato. E qui altra contraddizione. Che succede? Il governo dice non succede niente perché così come l'ho mandato diventa legge. Va bene? Chi contrasta questa opinione dice no. Sostanzialmente resta nel limbo la situazione e la soluzione. Ci sono tutta una serie di queste questioni che apparentemente sono di natura tecnica, ma nei fatti e nella sostanza cambia la natura della nostra democrazia, cambia la natura della nostra Repubblica. Il Parlamento diventa un organo di pura ratifica e non un organo che rappresenta la nazione, quindi rappresenta chi governa e rappresenta anche chi sta all'opposizione. Cioè viene tolto il potere decisionale al Parlamento, perché deve soltanto ratificare. Come avviene con i decreti di legge oggi. Che fa il governo? Presenta il decreto legge. Tre giorni prima che scadano i termini, chiede la fiducia e presenta un emendamento sostitutivo totalmente del decreto legge che ha presentato alle Camere. Completamente diverso. E può o non può, e molto spesso non può, inserire in questo nuovo testo sul quale chiede la fiducia le modifiche che frattanto sono state apportate dalle commissioni parlamentari. C'è materia di riflettere, perché evidentemente la linea che sta prevalendo è quella della riduzione delle istituzioni rappresentative dei cittadini e nello stesso tempo la riduzione dei diritti del cittadino.